Ragazzi oggi siamo su gmod giocheremo a pro punt negli uffici di youtube in compagnia nostra scad E axel e ciao ciao e presentiamoci dai allora abbiamo Cosa che è questo verde io sono saianide Ma sei tu questo Minchia hai da faccia che ispira sprangate C'è un labbro slabbrato adesso mi hai sporcato per caso Hai una bugna così sulla faccia Basta 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 che muoio E' uno sfregiato A mister mi guardi scad Ehi la ciao Ma sei mister mi guardi di Rick e Morty scad Sì sì però quello un po' più cattivo quello che ti prende ti apre la schiena Col sorriso però ovviamente Ok e axel che è terrone chiaramente deve fare il padrino giusto Ovvio Credo che minchia che qualità ha diventato gmod Il padrino è ultra hd meglio del film 4k Ma cosa stai facendo Un bobbino E niente siamo Chi sono i prop quindi Adesso poi vediamo questo rato tutto puttano ormai Sai cosa mi ricorda sta scena di uno che è entrato negli uffici di youtube con un fucile a pompa E io con un piede di porco E' successo in america ver davvero Siamo in america E' un fan fact Guarda qua in caso di emergenza rompere il vetro Lo prendi tu o lo prendo io Ah ok aspetta Dove cazzo è andato Eccolo Eccolo Spacca tutta Ho sentito dei rumori qua dentro Che è sta stanza? Cos'è? Ma è un ascensore No Vieni da me scad Ma non so dove sei Dove sei? Non so se vuoi dire vieni da te Fermo Mica c'è la mappa Senti gli spari Ok si Li sentiamo Li sentiamo Mi sto perdendo Sì ma ti devi calmare Andrea Aspetta mi vedi qua Camper guarda il vetro su Aspetta perché stiamo ridendo noi axel? No 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 noi stiamo dando delle telecamere No no noi ci immaginiamo che stia succedendo qualcosa Ah ok Questo è spawn E questo è axel Vuoi da bere scad? Sì dammi dammi Vieni candeggina Candeggina? Vabbè cura molte malattie da come dice la gente Anche il coronavirus Sì sì Diventa questo Diventa questo Diventa questo Aspetta che sono Oh cazzo Metti a posto questo Vai vai Aspetta E ci mettiamo qua Ok Ok axel siamo insieme Sali con me Li raggiungiamo dal conto da reazione Vai di là Ma mi stai spostando tu Ma come faccio a stare in qua che c'è la porta qui? Ah è caduto Vediamo se ci Oh cazzo Oh siamo tornati Oh siamo arrivati No all'inizio di nuovo Ma stava per un labirinto Porco Ok ok Destra Destra Ecco è qua Era qui la candeggina Quanto volta? Ha visto niente Ha visto niente Ci sono E non cervella Sul muro Ma è tutto a posto No noi non vediamo sangue sul muro Ragà No non vediamo niente noi C'è qualcosa che non mi guarda Bella Ah ok Avete solamente troppa vita Abbattuto Axel ti porto in un posto magico adesso Mostrami Seguimi È la tua stanza dei giochi È brutta storia Oh ma Secondo te ci sarà la stanza della Demonetizzazione Non lo so Sai il bollino giallo Cerchiamola Oh Ok Oh cazzo Ah ok Sei con me Non contro Ma questo C'è un nome particolare Perché è un funzionario noto O è così a caso È lui È quello che si revisiona i video E nonostante le tue bestemmie Ci mette i palini verdi Quindi lascialo stare Scud Non c'è più una faccia Allora Oh Cosa ho visto? Cazzo va Watch out Watch out Watch out Mi giro qui Ittiamoli con le sedie Via Vai Metti la musica di Giancina Paparapà Papà Mi prende la sedia Papapapà Arrivano con le sedie Papapapapà Ma poi non sono sedie pieghevoli Allora dici tu Secondo me se le tiri sulla schiena Si piegano Guarda un po' Sono le categorie di YouTube TV show Movies Cancer 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 E muoviamoci Piccioni Ma cosa? Ma l'ho scioltato Ma sono queste due sedie Dove vuoi andare? Ma sei bloccato Aspetta guardalo Guardalo soffrire Guardalo soffrire Di claustrofobia Adesso Granata Abuse Non si apre la porta Che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Is this my recommended? Perché sono questi i miei consigliati? Ma dove cazzo siamo finiti? Ma che cazzo Ma che è la stanza dei server del deep web? O sono quelli Quei video di fortnite? No no via via Scappa 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 Via 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 Due stupidi Ma tu cazzo piotto rega Fica a corrermi guardi Che farò una gitta? Facciamo la gitta? Io mi son nascosto ben benino Ma che cazzo sei Andrea? Ma non ti puoi nascondere così? Perché no? Ah perché non puoi? Perché? Facciamo delle scale Ma non vanno gli ascensori in sto posto di merda Beh io vi do un consiglio comunque No niente consigli Ma sei nel reparto di ventilazione? Ci sono i town per i consigli Vabbè il town Talza le mani Mi serve qualcuno speciare? No no io ho capito dove sei Ma come? Ma come? Ha capito dove? No Coglione Ti trucido Che cazzo eri? Bella a tutti ragazzi E benvenuti in un nuovo video Su Windows 92 Ma questo è starmi Metti like e non faremo niente Beh you tarder You tarder Ho detto una frase per iniziare un video Saranno in una stanza di riprese? Dove era la stanza? What? Ah questo è il bagno Occulta le prove Occulta le prove Axel hai fatto un disastro Tutto ordinato Tutte le telecamere sono per terra Perché la vera star sono io Ma sarà mica La cina è presa dentro la pianta Andiamo a controllare meglio Con un piede di porco Ops No sbagliato È smertato il set Ma come? Non era un prop? No ma lui ha detto che ha spostato solo le robe Ma questo è la stanza dei prank fake Con la telecamera nascosta E va Oh cazzo E quelli erano i barili di tritolo Con cui just ramo fa saltare le dita ad Elina Per scherzo Scherzo è che ho finito male Ah vedi 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 Guarda che ce ne ha un altro Dove? Allora Ah, questa è la stanza di unboxing, guarda le scatole Dove siete? Mi sa che sono nella stanza di registrazione a fianco alla nostra Mi sa proprio di sì Qui abbiamo fatto un casino Sta mettendo a suo quadro la sua stanza Non volete distruggere ogni stanza Finché non trovate la nostra Poi dovreste morire prima o poi a forza di picchiacose Questa cazzo di vita c'ho venuto Ma questo ho trovato il cranio di un bambino Che ti trovo prima nei commenti Bella ragazzi Oggi sto aspettando i miei amici Il padrino e Saitama E mister i guardi Per un nuovo video Lo spranghi, tu lo sprangho io Ah, lo sprangho io Guarda, sponsor, ridi, faccio uno screenshot Lo tengo per le gambe, ok Va bene Camper, prima sotto il mio BS, per favore Mi spacca anche il computer, coglione Spacca tutto Spacca tutto Spacca tutto Avete dato una piccolata Sono morto Raga, distruggitemi tutto, ma non la mia giacca 5 Vi prego No, la mia telecamera No, raga, vi prego Lei a lei ci tengo più della mia vita Camper Camper, la telecamera nell'angolo Smontata Dove sei? Scud? Sei un parulone Oh, cazzo, sono di nuovo qua Dove sei? Uuuu, bacca Guarda, dove sono io Eh, vabbè, un po' abuse Eh, sali, sali, sali Oh, petta E che ce la fai? Uh Vai Non ce la faccio No Sono troppo piccolo Raga, non vale a glitcharsi, eh Ho capito dove sono Axel Ehm, eccoli Nei trovati? Sì Mi sa proprio di sì No, no, che Io Sono nel conto di reazione, esatto Ci sono entrato anch'io prima Mi sono entrato anch'io Ma cosa? Ci stavano delle magliette Ma se io accendo la tarcia mi vedete? Sì E perché non mi vedete allora? No, ho trovato, ho trovato un morto Ho trovato un morto, raga Che significa? Camper Che significa? Stai parlando con uno che quella mappa la conosce come le sue tasche Ma raga, ma c'è un morto nell'ascensore, ma che vuol dire? Il morto è qua No, dove sei cazzo? Mi sono ritrovati dal morto Ma perché io spambo la luce e nessuno mi vede? Scusate Axel Oh Ah, ecco Perché non corro più? Ma sei glicciato, non Raga, ma non corro più, cosa ho cliccato? Vado al rallentatore, perché non corro più? Si sono spezzate le gambe Salto anche al rallentatore, mi vedi? Sì Guarda Fluttuo Siamo iniziati sulla luna Saliamo, andiamo a vedere Da qua non si può segnare No, ma mei di oro, ho trovato un muro di ghiaccio Che trovo? Che? Frozen Casa? Uh, K-Cleaner E devi pulirti le chiavi di casa? O le forchette? Puoi inserirle qua dentro se vuoi Ma che cazzo? What? Ma perché è successo? Perché? Ma perché sta volando, Andrea? Andrea, devi fare un po' di tanto, non troveremo mai noi Ma io, ma non Raga, non potete capire Si sta volando Non potete capire Ma questa non la potete capire davvero Guarda, tanto, aspetta, metto la musica Eh, bacca Uh, volte, centometrista Ma io lo sento qui Oh, bacca Qui sopra Io lo sento qui Perché? Ma dove sta andando? Ma che ne so Oddio, oddio Ma senti anche tu la radio qui sopra? Ma è baggattivo Io lo vedo fuori dall'edificio Si è rotto il gioco No, guarda cosa ha fatto, Axel Ha preso quella scala Dove sei? Quella è scala Ma che cazzo? Io lo vedevo fuori dall'edificio E vedevo gli edifici di fianco, eh Non lo dico solo questo Ma non posso correre, Scud Hai capito? Sei iperbaggato E qua dove cazzo si va? Si è diventato un codice di script È tipo di qua, però È qua, è qua È qua la scala, in teoria Sali, sali, sali Ah, accendiamo la torcia È così comoda la torcia, effettivamente È caduta No, è caduta la scala C'hanno scammato Camper, dov'eri? Ma che ne so, io sto girando per la mappa Non vi trovo Era dietro di te, Spawn Era due magliette Solo che era totalmente compenetrato nel muro Era baggatissimo Prima stava volando Ma che noi siamo nella Nib Store Cos? Ti ha aggiornato? Eh, non lo so Sì, c'è anche la 4XL che una volta non c'era Ah, il merchandise Ah, ragazzi Stanno gli attaccapanni invisibili Sono semplicemente un po' rigide le magliette Ci stanno gli attaccapanni invisibili Aspetta, provo a tirargli le stazzine Vai, vai Devi lapidarlo Con i giochi di... E rompiti un basi in testa Ah Ma chi era questo? E' alto sta qua Ma questo estintore? E' un po' fuori luogo E si muove anche Sorpresa, era il padrino Dove sei? Che cazzo ne so Dove sono finito? Ho eruzione, vai FBI, open up Ecco Dio, mi, mi Non mi fa passare Perché queste porte si aprono solamente nella nostra direzione Beh, le antipanico un botto proprio In il terremoto muoiono tutti Ma non per il terremoto perché si schiacciano Raga, ho attivato la radio No, ho attivato la radio, non la sentite? No Ma dove cazzo? Ma ti sei rimesso fuori dalla mappa come prima? Beh, più o meno No, sono vicino all'uscita L'uscita? Quale è l'uscita? E' quella l'uscita, no? Ma vedi l'uscita, Scud? Io? Io sì che la vedo Però, perché ti sto aspettando Però so dove sei Ostia Ora è caduto Forse adesso l'ho sentito Oh, via, via, via No, 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 no Camperci è riuscito a trasformarsi in un vecchio Oh, c'è riuscito È uscito dalla finestra È finita, raga, chiudete tutto Oddio, è fuori di qua? Axel, Axel, Axel Dai Ma è rottissima questa mappa È uscito dalla finestra che avete davanti Oh, che cazzo è? È uscito dalla finestra che avete davanti E sta andando via sul cornicione Ma che cazzo? Ma io non possiamo entrare nella finestra No, solo lui ci può passare Ma prima passava pure nei muri invisibili Ma che palle Si diverte solo lui Dove sta, unta, fai qualcosa È fuori dalla finestra, non lo potete colpire È fuori dalla finestra che io dimo Sono rientrato Eh no, si è spostato È dal merchandise Beh, in caso di emergenza, giusto Si usa questo per sfondare le finestre Vero, scad, faccio così Sì, sì E sfondo le finestre No, perché non funziona più? Oh, no Oh, no È un culo Distrutto Vieni qua Questa, 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 questa Eh, lo so Vieni, vieni Chiudi Oh, oh, shit Chiudimi, chiudimi, chiudimi Eh, ok A posto A posto A posto Dai, hai 5 minuti a cercarci Dai, dai Fog C'ho un'idea, c'ho un'idea Vieni, vieni, c'ho un'idea C'ho una strana idea perché l'ho fatta prima Ma che morbina il gioco, eh, Axel Non lo vuoi Fatti a farti fottere, Axel Vattene via Eh, poi dai coglioni Aspetta, Axel Questa cosa qui bisogna aprire la serranda Come? Sì, è proprio quella Esatto Quella lì Usa il piede di porco, mi raccomando, per aprirla Vieni qua un attimo Per provare Per la scienza, eh Eh, senti i gabbiani Aspetta Regalmo Senti una munca Che verso è? Sì, sì, sono qua, Axel Se noi, l'hai rotta tu la La porta del condotto Cosa? L'hai rotta tu questa? Sì, sì, l'ho rotta io, l'ho rotta io Allora, ok, non sono qua Guarda, sono Spoon No, hai messo la radio, Scud, no Oh, come si toglie, come si toglie Ma cosa? Ma cazzo Ma perché? Ma cosa? Oh no Ma mi ha venuto la gamba Ma chi? Ma non ha senso Ma perché? Wallbang ha fatto Wallbang 100 punti a Grifondoro Ma io non c'ho parole Non ho assolutamente idea di come ti abbia ucciso Comunque ho sparato a caso Eh, il colpio ha attraversato l'armadietto Ma eravate una Eravamo una sadrina dentro l'armadietto Ok ragazzi, questo era l'ultimo round Spero che il video vi sia piaciuto Ringrazio Skad e Axel per aver partecipato Eee, guardami, guardami Mi sparo in bocca Sì Spero che il video vi sia piaciuto Dal camper Da Spoon È tutto, noi ci vediamo Ma quando è com'è? Com'è, ma con un prossimo video